Comunque è da fare è da fare è da fare? è da fare questo è un bidone un bidone e poi mamma mia questa cosa quella rossa è quella che fa fanno il giro e fa più casino però eh sì fanno il giro fanno i miei bai ecco si divertono a guidarle questa è bella si divertono a guidarle questa è bella è 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